L'evento dell'estate 2013 è il Festival delle Alpi, organizzato dall'Associazione Montagna Italia e dal CAI Regione Lombardia e con il patrocinio della Presidenza della Repubblica. Il 22 e 23 giugno, in contemporanea nelle più belle località dell'arco alpino italiano, ti aspettano eventi di turismo e cultura, sport e ambiente, passeggiate e folklore. Il Festival delle Alpi 2013 è aperto a tutti. Cerca l'evento che più ti piace sul sito www.montagnaitalia.com, alla sezione Festival delle Alpi. Se ami le Alpi italiane, il 22 e 23 giugno non puoi mancare. Radio Ufficiale, vive FM.